Si può, si può, signore, signori, scusatemi, se da sole mi presento, io sole lo prologo, poiché in cielo ancora le antiche maschere mette l'autore, il fatevo di riprendere le vecchie usanze, e a voi il uomo poi ne fiammi, ma non per dirvi come prima, le lacrime che noi versiamo sono false degli spasimi, dei spasimi non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato, in mezzo a finire di uno scuaggio di vita, Egli per Massima so che la triste è un uomo, e che per gli uomini scrivere idee, ed ai vero ispirava sì. Unito di memorie, Tifoni! 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 Oggi battevano, dunque vedrete amare sin come salani le serguani. E prendete l'obbio i tristi frutti, e l'onore mi spasimi, come di rabbia prete e risarginite. E poi, io trosto delle vostre opere gamane di spriudi, e l'ostrani me, come si nero tre, oi che sia uomini di carne retosa. E che di quest'ore fa una lavanda, ma le pari di voi, speriamo lei e me. Il concetto mi dissi, ora sto traze, ugolje spolto, andiam, incominciate. Grazie a tutti.